sei indifendibile stai cercando di giustificare l'ingiustificabile per me sei pessimo 37 minuti fa sei una merda uno schiavo del pensiero unico il tuo nome non serve nemmeno a pulirsi il culo e quando parli di messora sciacquati la bocca con la candeggina tre ore fa dopo quattro anni da questo video questo è un po intelligente posso solo augurarti tanta salute ne avrai bisogno molto bisogno questi sono alcuni dei commenti che ho ricevuto a decine sotto un video di quattro anni fa nel 2017 quando bio blu venne demonetizzato nel suo blog da google ovviamente per la violazione delle policy e io quello che ho detto quattro anni fa lo sottoscrivo lascio in descrizione il video tanto così ci divertiamo un po c'è ancora i capelli lunghi e insomma ne abbiamo fatta di strada allora voglio rivolgermi direttamente a claudio messora caro claudio messora se dopo 14 anni di attività giornalistica il pubblico che ti sei attirato non riesce a capire la data di pubblicazione di un video e si esprime con un italiano molto discutibile e a minacce fisiche beh allora il ban di bio blu da youtube dovresti vederlo come una liberazione tua e pure nostra ma al di là di questo ragioniamo quest'oggi seriamente sulla chiusura del canale bio blu e lo facciamo come sempre dopo la sigla sei su daily cogito il podcast di rick du fer e chi non lo ascolta è cibo per gli zombie voglio essere completamente sincero con voi non ho mai provato neanche lontanamente a nascondere la mia antipatia per il progetto bio blu progetto che nel corso di più di un decennio ha dato voce ai peggiori disinformatori ai peggiori manipolatori che possiamo trovare sul globo terracqueo globo mi raccomando non piatto terracqueo progetto che ha cavalcato l'onda antiscientifica che oggi fa marcire il cuore del nostro paese e che ha portato così tanti danni alla cultura contemporanea progetto che ha contribuito negli anni a trasformare il web in una latrina di spazzatura opinionistica giocando sui peggiori pregiudizi di persone spesso incapaci di scrivere anche solo lontanamente in un italiano comprensibile sono troppo cattivo adesso faccio il bravo io non sono contento della chiusura del canale di bio blu su youtube per me è una sconfitta per diversi motivi che vorrei raccontarvi e argomentare in questo video e ora a tutti voi che seguite bio blu potrete insultarmi sotto un video molto recente perché questo è fatto in data cos'è oggi oggi è il 31 marzo quindi tranquilli 31 marzo 2021 ma prima di lanciarci in questa disquisizione vorrei dire che se vuoi difenderti dalle fake news non ci sono strumenti c'è un'unica arma il cervello e daily cogito lo allena abbastanza bene combattendo la zombificazione ma ma se vuoi difenderti dalle insidie del web non quelle delle bufale delle fake news le insidie invece quelle informatiche beh il vpn è un ottimo alleato e questa puntata è sponsorizzata dal nostro partner nord vpn cos'è un vpn oltre ad essere un servizio a cui io faccio che utilizzo da più di due anni beh il vpn è un servizio che ti permette di cambiare ip in modo sicuro e veloce proteggendo i tuoi dati e quindi navigando in maggiore sicurezza quindi ti permette di proteggere i dati anche quando utilizzi connessioni non sicure cosa da non sottovalutare inoltre ti dà strumenti per rendere più sicure transazioni online e anche il tuo business online in caso tu ne abbia uno ora nord vpn partner di daily cogito e utilizzando il codice sconto dufer potrete accedere a uno sconto del 70 per cento per i primi due anni che non è male e con due mesi di utilizzo gratuito soddisfatti o rimborsati quindi dateci un'occhiata link in descrizione provatelo e sono certo che non ve ne pentirete ma adesso torniamo al nostro argomento di oggi la chiusura di bio blu su youtube è una sconfitta per tre motivi principali il primo è un motivo tecnico giuridico il secondo motivo filosofico il terzo è un motivo informativo per chi non sapesse quello che è accaduto provo a riassumere velocemente la vicenda bio blu è una testata giornalistica registrata fondata e diretta da claudio messora si tratta di senza mezze termini la punta della contro informazione italiana un canale che ha avuto montagne di utenti in tanti anni di lavoro e che ha fatto un servizio di contro informazione dichiarata canale da 200 milioni di visualizzazioni e più di 5000 abbonati attivi paganti quindi da advertise abbonati insomma il canale youtube faceva un certo introito permettendosi di poter pagare redattori giornalisti e via dicendo da tempo dall'inizio bio blu faceva una capillare diffusione di bufale di fake news su tematiche anche mediche e molto spesso molto molto delicate soprattutto scientifiche dando come ho detto all'inizio voce a personaggi molto discutibili cosa legittima ma è una cosa da tenere presente ad aggravare tutto questo claudio messora ha fatto anche un quattro chiacchiere con marco montemagno sto scherzando monti sto scherzando non incazzarti ma ieri è successa una cosa ieri il canale è stato buttato giù e claudio messora ha avviato un crowdfunding con l'obiettivo di 150 mila euro con l'obiettivo quindi di fondare di aprire un canale sul digitale terrestre che permetta all'attività di bio blu di trasferirsi in un ambito meno censorio per seguire insomma le sue opinioni ora io non sono contento di questo decorso per tre motivi che adesso andrò a sviscerare insieme a voi perciò partiamo dal primo il primo è un motivo tecnico giuridico ora questo non è stato un evento a ciel sereno non è che uno si sveglia un mattino dice hanno buttato giù il canale di bio blu ma chi se l'aspettava è tutto quello che è successo negli ultimi anni ad aver preparato questo evento infatti da anni google demonetizza manda strike e elimina video di bio blu e io vi posso assicurare che quando questo accade il creatore di contenuti riceve documentazione riceve motivazioni molto spesso sono e questo è un rispetto che va assolutamente cambiato ma rispetto al passato è molto migliorato sono motivazioni sfumate grigie non particolarmente chiare ma non è il caso di bio blu ci sono policy da rispettare e soprattutto negli ultimi due anni google ha reso sempre più chiaro ciò che permette nella sua piattaforma ciò che non permette nella sua piattaforma e questa è una cosa molto molto importante da comprendere c'è un problema enorme di tutti questi eventi demonetizzazioni ban video eliminati strike ricevuti il pubblico quindi gli utenti di bio blu conoscono soltanto la versione del creator in questo caso claudio messora e anche in quel caso come ho detto a volte youtube manca di chiarezza nel comunicare le motivazioni cioè non vengono divulgati in modo efficace i motivi per cui un video viene bannato per cui un canale viene oscurato per cui un video un contenuto viene demonetizzato e questo è un problema perché il pubblico conosce solo una versione e poi il creator non ha un obbligo di divulgazione dei motivi reali anzi può inventarseli se adesso youtube decide di buttarmi giù un video io posso dire tranquillamente pubblicamente che quel video è stato buttato giù perché io ho i baffi e la barba rosse e a youtube sta sulle balle che io abbia questo tipo di caratteristica fenotipica potrei farlo nessun problema poi se voi ve la bevete sta roba mi spiace è una vostra responsabilità però capite bene che la mancanza di trasparenza nei confronti del pubblico delle motivazioni da un piede di porca argomentativo incredibile a chi poi subisce queste cose perché questo permette a claudio messora oppure a paragone ragazzi ieri paragone ha fatto una diretta su facebook sbraitando parlando della censura che qui siamo peggio della cina ha fatto un video veramente delirante un completo delirio urlando che ha polarizzato ulteriormente la visione che il pubblico ha di questa vicenda giocando su un'ignoranza e sapendo di giocare su un'ignoranza dicendo cose assolutamente sbagliate tipo che google è una multinazionale americana ed è incredibile che una multinazionale americana possa avere parola così importante su qualcosa che è un diritto italiano dimostrando di non capire nulla di come funziona internet che è una cosa un po più complicata degli americani e italiani vabbè paragone è paragone e non c'è paragone ma diciamo così claudio messora e tutti coloro che sono presi in questa problematica si possono permettere di gridare alla censura lasciando che questa sia l'unica versione rilasciata al pubblico e questo è un grave problema ma voi sapete perché in occidente uno dei fondamenti della giustizia è che i processi siano pubblici che le carte di un procedimento siano sempre pubbliche a volte oscurate fino a un certo momento ma poi si possano effettivamente consultare perché il fondamento di un sistema democratico è che la gente possa conoscere le ragioni dietro certe scelte ora questo ha a che fare col sistema giuridico quindi con lo stato sicuramente possiamo star qua e dire che non è tenuta un'azienda privata invece a fare apertura di questi documenti e queste ragioni però è un problema per quello che andrò a dire tra youtube e bio blu infatti c'è un processo non è un processo di stampo giuridico potrebbe diventarlo a questo poi ci arriviamo è importante ma sicuramente c'è un processo ed è coinvolta l'opinione scusatemi è coinvolta l'opinione pubblica che in qualche modo dovrebbe poter riconoscere le ragioni che stanno dietro a una certa scelta che il pubblico sente come danneggiante nei propri confronti perché se io seguo un canale quel canale sparisce magari io posso farmi girare il quarto d'ora e se di fronte a quel quarto d'ora non ho neanche le ragioni che mi permettono di dire ok ci sono delle ragioni anche dall'altra parte beh allora allora sto facendo un danno quindi senza questa trasparenza ed è questo il vero problema anche le persone ragionevoli rischiano di sospettare ed è quello che sta succedendo perché non sono soltanto quei mentecatti che vengono a insultarmi minacciarmi sotto un video di quattro anni fa pensando che sia un video di oggi a sentire questo sospetto anche persone magari più ragionevoli un po meno schierate polarizzate e questa è una cosa su cui dobbiamo assolutamente cambiare google deve cambiare questo approccio soprattutto visto che le piattaforme saranno sempre più simili a editori e l'intervento editoriale di facebook google quindi youtube e tutto quanto sui contenuti prodotti da me e da altri sarà sempre più forte perché quello è la politica in europa che lo sta chiedendo e anche negli stati uniti con diverse sfumature quindi messora su questa mancanza di trasparenza ci può marciare può usarlo a proprio favore il vittimismo censorio è qualcosa che va a fomentare un tribalismo che fa male a tutti fa male anche a chi sente l'adesione a quel tribalismo perché si gioca sulla sua ignoranza ora mi rivolgo a quelli che stanno già scrivendo in chat oppure sotto il commento dicendo ma no ma ti sembra guarda che google non è mica così in realtà è esattamente censura ma voi vi siete mai chiesti perché messora non abbia fatto un crowdfunding per pagare degli avvocati attenzione messora potrebbe adesso dire da un giorno all'altro mi servono 200.000 euro per pagare gli avvocati e fare causa a google perché sono in torto io ho ragione e lo dimostrerò li raccoglierebbe in una settimana infatti il crowdfunding di 150.000 euro per spostarsi di piattaforma se non sbaglio è già arrivato a più della metà della dell'obiettivo e quindi insomma ci riuscirà il che significa che la forza per farlo ce l'avrebbe ma lui non fa il crowdfunding per pagare gli avvocati lo fa per spostarsi e questo è significativo se infatti tu pensi oggigiorno in una democrazia in cui siamo anche se paragone dice che non è così se pensi di aver subito torto tu vai per vie giuridiche ma messora ha sempre usato eventi del genere per farsi finanziare dal pubblico e sapete perché perché claudio messora è furbo sa come funziona internet lui conosce la crisi del modello dell'advertise sa il fatto che ormai lo share pubblicitario per i creatori di contenuti per google è molto più basso rispetto a dieci anni fa sa che il giornalismo è lì è nel crowdfunding e sa che le piattaforme che funzionano anche negli stati uniti sono quelle che vengono finanziate da utenti non quelle che trovano spazi pubblicitari perché ormai gli spazi pubblicitari funzionano sempre peggio e quindi lui sfrutta un evento di questo tipo sfrutta la mancanza di comunicazione trasparenza fra youtube e pubblico sfrutta la propria versione dei fatti che è sbagliata perché questa non è censura per mille motivi per accrescere il proprio potere mediatico e questo non l'ha fatto oggi una volta l'ha fatto tre quattro cinque volte quattro anni fa quando pubblicai quel video in cui il sito di bio blu fu demonetizzato messora avviò un crowdfunding che ebbe un successo enorme e di fatto economicamente il progetto è cresciuto claudio messora questa cosa la sa è furbo e sa che non gli conviene andare per avvocati perché perderebbe perderebbe perché lui ha violato le policy più e più volte e questa cosa lui non vuole che arrivi in un tribunale ogni volta in cui c'è stato un ban o un video cancellato o la monetizzazione è stata tolta bio blu cresce e con lui la reputazione da davide contro golia che è una narrazione storta sbagliata da boccaloni e se tu che mi ascolti ci stai credendo sei proprio un boccalone incredibile non posso assolutamente stupirmi perché abbocchi alle panzane che sono state diffuse da bio blu abbocchi anche a questa chi si stupisce però spero che un po di gente che magari ha il dubbio ha il sospetto comincia ad avere un'informazione diversa non soltanto quella di messora ma anche questa boccaloni ma non abboccate ora anche la denuncia di antidemocraticità di paragone di messora è completamente fuori luogo perché perché soprattutto negli ultimi tempi i ban di youtube ma anche di altre piattaforme sono stati legati a decisioni dei governi nell'ambito pandemico perché bio blu sfruttando il trend della pandemia come tantissimi giornalisti quindi insomma non è mica l'unico ovviamente ha pubblicato video disinformativi sulle cure alternative la vitamina c interviste a sedicenti medici guru sciamani che hanno la cura giusta ovviamente accompagnando questo sempre a contenuti che disinformano sui vaccini usando il trend di astrazeneca a proprio vantaggio in modo sempre più furbo sempre più sottile attenzione hanno migliorato i loro strumenti narrativi nel tempo però sempre quella con video su protesta di piazza come i gilet arancioni pappalardo e su manifestazioni no mask non fermandosi alla cronaca e ma di fatto andando a spingere verso una narrazione che è quella del complotto globale e del piano calergi e dell'europa che ci vuole tutti i morti ecco dopo questo voglio dire che il ban non mi piace non mi piace è proprio la soluzione sbagliata per altri motivi che adesso andrò a delineare però capisco perché è arrivato lo capisco perfettamente vedo le ragioni di questo ban e vedo che in realtà messora ha giocato sul figlio del rasoio fino alla fine sapendo che poi quando quel ban sarebbe arrivato ne avrebbe tratto un vantaggio il vantaggio è che adesso potrebbe avere sufficiente denaro per aprirsi il canale sul digitale terrestre questo è per me l'obiettivo che va fin dall'inizio il secondo motivo per cui questo 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 ban non mi piace un motivo filosofico prima di adentrarmi però una piccola cosa ulteriore su questo il ragionamento che vi ho appena proposto va di pari passo con quello vi ricordate quando casa pound venne bannata da facebook qualcuno potrebbe dire ma perché quindi messora adesso dovrebbe voler andare sul digitale terrestre è semplice perché lì non avrà le policy e le restrizioni di youtube lui ha usato youtube negli ultimi anni per accrescere il pubblico e farsi quelle 200 milioni di visualizzazioni quindi un sacco di pubblico molto polarizzato che adesso è pronto a pagare fior fior di quattrini per finanziarlo e andrà su una piattaforma in cui i controlli editoriali saranno molto minori quindi aspettatevi un bio blu proprio come casa pound su telegram può adesso pubblicare roba completamente fuori controllo mentre su facebook doveva comunque restringere il campo dei contenuti abbastanza controllati adesso bio blu quello che non poteva fare su youtube lo farà nel suo canale senza censure senza nessun problema e forse polarizzando ulteriormente il pubblico che si è affezionato alla sua al suo progetto negli anni passati capite che è un meccanismo molto perverso ma veniamo al secondo motivo ed è un motivo filosofico i contenuti di bio blu sono opinioni e narrazioni e perdere questi elementi per quanto odiosi è un danno incalcolabile in primo luogo perché come ho detto continueranno a serpeggiare ma in altri luoghi al di fuori del nostro sguardo e forse con un impatto ancora maggiore ma anche per un altro motivo e mi sto rivolgendo adesso a chi sta festeggiando ne ho letti tanti in questi giorni che festeggiano è viva una vittoria non è una vittoria ragazzi non è una vittoria è una sconfitta ma per caso avete paura che le vostre opinioni e le vostre narrazioni che sono magari anche le mie non siano sufficientemente forti da poter avere la meglio su quelle di messora e compagnia bella mi dispiace un sacco per voi lavorateci su quelle opinioni lavorateci su quelle narrazioni e non aspettate che le altre le alternative spariscano perché in realtà è un atteggiamento molto infantile molto molto infantile io voglio scontrarmi con un mondo che abbia narrazioni storte per mettere alla prova le mie idee per farmi un pubblico che riesca a riconoscere ragionevolmente la superiorità argomentativa delle mie idee su quelle degli altri e lo so che siamo di fronte a un momento storico in cui siamo convinti che in realtà no la ragione non può nulla contro la pancia beh mi spiace io non mi arrendo mi sembra un pregiudizio devastante che fa il gioco della gente come quella di bio blu no la ragione può sempre avere la meglio sulla pancia solo che essendoci arresi a questo pregiudizio abbiamo smesso anche noi noi che abbiamo magari le idee più ragionevoli di ragionare e questo è il vero problema e a chi cita popper il paradosso della tolleranza mannaggia voi ma smettete l'ho visto gente che di fronte al bandi bio blu avete ancora quel meme di merda di popper che dice bisogna non tollerare gli intolleranti dimostrando come ho detto tante volte di non aver capito un cazzo del paradosso della tolleranza e dimenticandosi che popper quando parlava di quella roba lì diceva che fino alla fine una democrazia deve proteggere la libertà di esprimere le opinioni fin tanto che le opinioni non diventano gesti e che ci piaccia meno il canale bio blu di il canale youtube di bio blu non era gesti non era atti era narrazione era opinione ma noi ci siamo arresi possiamo soltanto combatterle con la mannaia e questo per me è un grave grave problema della mia parte e quindi facciamoci i conti le idee si combattono con le idee non con le accette e da questo punto di vista voglio aggiungere un ulteriore spunto di riflessione che già su daily cogito ho proposto altre volte il mondo si divide in influencer e wrang wrang le mie idee sul mondo si sono sviluppate anche in contrasto a quelle di messora e le idee che voi portate avanti che siate comunisti liberali libertari democristiani pidini grillini ricordatevi che le vostre idee in buona parte voi le avete sviluppate prima di vederne le ragioni in contrasto a chi riconoscevate come avversario antagonista questo è il wrang wrang c'è il cattivo maestro è colui che esprime un'idea ma che per i più vari motivi io sento contrastare con la mia sensibilità e io comincio a sviluppare le prime consapevolezze sulle mie idee a causa del wrang wrang e ricordatevi che di wrang wrang è pieno il mondo e gli influencer contano molto molto meno di quanto noi pensiamo una cultura ha bisogno dei suoi cattivi maestri e di chi li smaschera perché è così che funziona cattivo maestro cattiva idea strumenti per contrastare e smascherare e poi io che ascolto mi faccio la mia idea e quindi bisogna smascherare i cattivi maestri mostrando la loro scarsa concretezza e in questo modo dare strumenti alle persone per smascherare gli altri cattivi maestri questo è il sistema democratico del dialogo e dello scambio io non voglio un mondo senza bio blu e l'ho detto ed è così tranquilli però non ce l'avremo e non ce l'avremo perché voi che state festeggiando state buoni che in realtà avremo bio blu forse ne avremo ancora più di prima forse ancora più cappillare di prima quindi tanti saluti a chi spera di aver ripulito forse abbiamo ripulito youtube ma il mondo non è youtube anche se per alcuni questo può essere un'illusione reale terzo motivo il motivo è informativo l'opinione pubblica non si forma solo con le informazioni giuste eliminando dal panorama tutte quelle sbagliate mi spiace è un bel sogno di un razionalismo molto ingenuo di una visione dell'uomo molto semplice non è così l'opinione pubblica si forma dando strumenti alle persone per distinguere le idee giuste da quelle sbagliate le informazioni giuste da quelle sbagliate quante volte le abbiamo detto su daily cogito in realtà tu non migliori il mondo quando censuri il mein camp migliori il mondo quando le persone leggendo il mein camp hanno sufficienti strumenti culturali per dire ma che stronzata ma sotto tutti i punti di vista questo migliora e quindi una società non migliora se tu elimini il panorama messoro bio blu una società migliora quando tante persone dicono guardo un video di bio blu e mi ci diverto perché è un fantasy guardo un video di biglino ma ho gli strumenti per capire che è un bellissimo romanzo ma niente di più questa è una società che funziona e invece invece no invece siamo preda di un pessimismo paternalista di fondo in cui ci siamo convinti che l'individuo non ha gli strumenti non ha le capacità e quindi va protetto perché di questo poi si tratta è di nient'altro che questo da un lato infatti abbiamo un mondo che è quello in cui ci troviamo in cui finiamo per credere alle informazioni tanto a quelle sbagliate quanto a quelle giuste perché la dimensione della credenza si ha quando sono nascoste le ragioni dietro a quelle informazioni e se io non ti do gli strumenti per analizzare fare il reverse engineering delle idee delle informazioni per permetterti di chiederti ma com'è che siamo arrivati a questo punto a questa idea allora ti diciamo guarda questa è giusta questa è sbagliata e basta e tu finisci per credere sulla base di emotività ragioni sbagliate simpatie antipatie e cose che non hanno a che vedere con il cervello e questo è un problema dall'altro lato invece avremo un mondo in cui le informazioni vengono scelte poiché verificate ma per avere questo mondo tu devi avere il pluralismo devi avere un mondo in cui ci sono quelle giuste ci sono quelle sbagliate persino quelle sceme quelle stupide e anche le informazioni pericolose ma hai lavorato sufficientemente bene a livello culturale nella scuola nel giornalismo nella diffusione di strumenti e via dicendo da permettere a ogni persona o almeno alla maggior parte delle persone di guardare quel panorama e dire ah sì adesso ho capito perché questo è giusto questo sbagliato questo è pericoloso questo non va bene e riesco a vedere tutto riconoscendo le ragioni che stanno dietro ecco il mondo che dobbiamo raggiungere e non è il mondo che raggiungeremo cancellando da youtube bio blu e dando gli spazio per un emittente satellitare in cui potrà fare quel cacchio che gli pare moltiplicando a dismisura quel mondo in cui le persone crederanno alle informazioni stiamo facendo il suo gioco bio blu ha prosperato in quel paternalismo stupido e superficiale che mi fa schifo veder delineato da persone che invece dovrebbero mostrare un mondo diverso perché è questo di cui stiamo parlando stiamo parlando del fatto che io capisco perché bio blu perché messora ha usato quel paternalismo lo capisco è il suo business ma non capisco come invece persone che si fanno portavoce di scienza cultura e cose che io ritengo nobili e importanti siano cadute in quel paternalismo questo non lo concepisco e il festeggiamento di fronte alla chiusura di bio blu me lo ricorda di nuovo perché siamo a questa situazione servono strumenti non verità non protezione serve ottimismo serve credere nella ragione delle persone e dare alle persone gli strumenti non guidandoli come se fossimo dei novelli virgilio nell'inferno dantesco però senza che quello sia l'inferno perché in realtà è il blog di bio blu e senza che noi siamo dante o virgilio perché in realtà siamo gli ultimi arrivati servono strumenti non verità per dare strumenti però dobbiamo avere una maggiore fiducia nell'autonomia intellettuale degli individui claudio messora vi svelo un segreto non ha mai avuto nessuna fiducia nei suoi utenti il paternalismo di cui bio blu è stato portavoce non ha mai dato spazio agli strumenti critici delle persone ha detto caro utente ecco il piatto preparato di come funziona il mondo secondo noi credici se vogliamo che bio blu vinca non dobbiamo che imitarlo e continuare a trattare le persone con questo paternalismo secondo me è un suicidio filosofico informativo e sociale nonché politico e mi piacerebbe vedere un dibattito diverso intorno a queste questioni spero quindi di aver aggiornato bene il video di quattro anni fa cosicché la gente che arriva a insultarmi lo faccia con aggiornamento mi raccomando siate up to date con quelle che sono le critiche a bio blu detto questo io io apro il mio canale a claudio messora claudio messora vuoi dibattere vuoi confrontarti io sono apertissimo al dialogo quindi il mio suggerimento è quello di farci una chiacchierata non so ovviamente sono abbastanza convinto che non verrà accettato questo invito ma io sono molto aperto a dialogare perché sono scontento di questo ban e da persona in grande disaccordo con tutto quello che hai raccontato negli ultimi anni però concedo il mio spazio per ragionare insieme se vorrei farlo eccoci qua per tutti gli altri se siete in live non uscita adesso apriamo la chat vocale quindi chiacchieriamo un po anche a voce se invece siete indifferita beh insomma avete lo spazio dei commenti avete la possibilità di diffondere questa puntata e di far conoscere dei ricogito a quanta più gente possibile non arriveremo mai a 200 milioni di visualizzazioni ma magari qualcosa riusciamo a fare anche noi grazie per l'ascolto buona giornata e non dimenticate che non è tutto noi a ciò che pensa ciao 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 ciao